Un saluto a tutti i telespettatori della nostra rubrica Buonasera. Questa settimana seguiamo le fasi di preparazione in attesa dell'arrivo di Papa Francesco a Genova sabato 27 maggio. La puntata di questa sera darà un aspetto un po' particolare, quello dell'informazione e delle notizie che si sono susseguite in questi mesi da quando il Cardinale Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco ha dato l'annuncio della visita di Papa Francesco proprio all'inizio dell'anno pastorale. Andiamo dunque a visitare il settimanale cattolico dell'Arcidiocese di Genova, il cittadino nella sua sede. Tutti gli aspetti relativi all'informazione, agli accrediti e tutto quello che riguarda l'informazione della visita del Papa a Genova sono stati coordinati dalla redazione del cittadino dove ci troviamo quest'oggi e dove andiamo ad incontrare il direttore e le giornaliste che vi operano. Ed eccoci all'interno della redazione del cittadino, ben trovati, vediamo le giornaliste al lavoro, salutiamo Don Silvio Grilli, il direttore. Come sta andando? Direi bene, siamo sommersi dal gran lavoro, però sta andando bene, siamo quasi pronti all'arrivo del Papa. Bene, allora ci accomodiamo, intanto possiamo anche intravedere l'ultimo numero del settimanale cattolico uscito proprio nella settimana di attesa verso l'incontro con Papa Francesco. Voi in queste settimane avete sempre, diciamo così, tenuto lo sguardo attento, lo sguardo desto a questa visita del Papa? Abbiamo trasformato il cittadino in un organo di informazione, più che di formazione. Sono mesi che diamo infatti notizie continuamente sull'organizzazione della visita del Santo Padre. Aiutiamo la comunità diocesana a prepararsi nella preghiera, nella riflessione sulla ruola del Papa. E poi diamo un mare di notizie informative sulla complessa organizzazione che viene messa in atto. Lo slogan con il quale Genova si appresta ad incontrare il Papa è un grande abbraccio. Genova abbraccia il Papa. Siete pronti a questo momento? Siamo pronti. È un invito questo che il Cardinale ha fatto alla comunità diocesana di accogliere il Papa con un grande corale abbraccio. Ed è quello che ci siamo impegnati a fare, per dare non soltanto un saluto cordialissimo, gioioso, un grande leader di valore universale, il più grande di tutti i leader di questo mondo da un punto di vista morale, ma di dare un grande abbraccio soprattutto al successore di San Pietro, al vicario di Cristo in terra, al pastore della Chiesa Universale, che viene anche lui per abbracciarci. Non soltanto noi attendiamo il Papa per abbracciarlo, ma è il Papa che abbraccerà noi. Papa Francesco suscita nei fedeli, nelle persone, una istintiva simpatia. Però in questo cammino di preparazione Genova ha voluto anche puntare al messaggio del Papa, proprio al ministero petrino di Papa Francesco. Lui viene a noi per parlarci nel nome di Gesù. Siamo sicuri di poterlo accogliere guardando il suo volto come il volto di Gesù stesso. E questo non soltanto è un valore per noi credenti, ma penso che ci sia tantissima gente che abbia bisogno, anche a Genova, di incontrare, di vedere il suo volto, perché c'è bisogno di sentirsi ricambiati. Il cuore dell'uomo è fatto ad immagine di Dio. E vedere il Papa in qualche modo è avvicinarci a Dio. E tanta gente lo accoglierà con questo spirito. Ci sono dei numeri significativi in questa visita pastorale di Papa Francesco. Il Cardinale Angelo Bagnasco in una precedente intervista aveva definito Genova un po' diesel, un po' faticosa nel incamminarsi, ma poi in questa fase finale il cuore di tanti genovesi si è scaldato. E lo testimoniano anche proprio questi numeri, dai lavoratori, ai giovani, eccetera. Sono numeri significativi perché saranno i lavoratori i primi ad incontrarlo all'Ilva, in questa grande azienda, e saranno oltre 3.000 lavoratori che potranno parlargli e ascoltarlo. Poi ci sono 2-3.000 giovani che arrivano al Santuario della Guardia per incontrare anche lì Papa Francesco, dove alla Guardia incontrerà anche i poveri, pranzerà con loro. Ci sarà poi anche l'incontro a Gasline con le famiglie dei bambini ricoverati in quell'ospedale. Un incontro molto privato, molto riservato. E poi ci sarà la grande messa conclusiva a Piazzale Kennedy. Sono già iscritti a questo appuntamento circa 70.000 fedeli. Altri, siamo sicuri, si affaceranno a quell'area della Fiera del Mare per ascoltare e per vedere il Santo Padre. Sono numeri grandi, se pensiamo anche a una certa riservatezza, a un certo stile così individualista che c'è in Liguria. E un altro dato molto significativo, molto bello, è il fatto che ci saranno anche tutti i Vescovi della Conferenza Episcopale Ligure che giungeranno con tanti sacerdoti religiose, religiosi, giovani e fedeli. E sono migliaia che giungeranno da tutta Liguria a questo appuntamento. Al di là dei numeri, che Genova troverà Papa Francesco? Quale realtà incontrerà? Se parliamo di chiesa, incontrerà una chiesa che potrà vedere, e lo abbiamo anche descritto nel nuovo annuario che è uscito proprio per la vista del Papa, potrà vedere dei volti invecchiati, soprattutto nel clero e nei religiosi, con una grande prevalenza di sacerdoti anziani, però che conservano uno spirito giovane e una dinamicità che nonostante gli anni quasi tutti riescono ancora fisicamente a mettere in atto. Troverà una chiesa unita, una chiesa obbediente al Papa, è vanto proprio della chiesa genovese, della chiesa Liguri, obbedienza al Santo Padre, l'accoglienza sincera del suo ministero, della sua parola. Troverà una chiesa generosa nell'ambito della carità, della solidarietà, una chiesa che cerca di capire quali sono le nuove povertà e che cerca di fare fronte. Troverà anche una chiesa con una caratteristica particolare che è quella di essere accanto al mondo del lavoro e ai suoi grandi problemi e quindi di essere accanto alla fatica del cammino delle famiglie. Troverà anche un spaccato di chiesa forse lontana, forse di quelli che non frequentano molto, ma che potranno essere toccati da questo evento. Sì, nel mio editoriale parlo di una figura del Vangelo che si chiamava Zaccheo, il quale a Gerico cercava di vedere il Signore che passava. Anche a Genova ci sarà tanta gente lungo le strade che cercherà di vedere Gesù nel volto del Papa e sicuramente non sarà un incontro indifferente, sarà un dialogo silenzioso, ma che aiuterà a irrobustire la fede che, seppur talvolta come un lumicino fumigante, c'è ancora nel cuore di tutti. Visto che siamo nella redazione del Cittadino, diciamo anche come la vostra redazione si è preparata a questo evento, poi andremo a ascoltare anche le ragazze che stanno lavorando. La redazione è formata dai volti che state riprendendo, più qualche altro volontario, e stanno lavorando tantissimo, non soltanto per costruire il Cittadino, ma per aiutare il mio ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi, e quindi lavorano su un doppio binario, quello di servizio al giornale e quello di servizio ancora più grande alla comunità diocesana, perché la comunicazione è decisiva, perché questa visita riesca bene anche dal punto di vista informativo e possano tutte le persone vederla, sia quelli che partecipano che quelli che resteranno purtroppo a casa, magari perché impediti ad essere presenti, e quindi il lavoro di queste persone nella redazione è davvero meritorio. Andiamo allora a conoscere le ragazze che stanno lavorando alla stesura del numero che esce questa settimana del settimanale cattolico Il Cittadino, Laura Ferrero. Allora, intanto come avete vissuto questi mesi d'attesa del Papa? Diciamo che nelle settimane precedenti eravamo un po' più tranquilli, adesso anche noi abbiamo un po' di agitazione addosso in vista di sabato prossimo, insomma. Tanto lavoro, tanta attesa, il giornale ha cercato di dare tutte le informazioni possibili per poter partecipare tutti a questo evento, e adesso ci troviamo appunto a lavorare al numero speciale che abbiamo pensato in quest'ultimo mese, possiamo dire, che riporta un po' quelle che sono le bellezze, le potenzialità della nostra città e anche i nostri limiti. Quindi ci sono un po' di articoli di carattere anche sociale che sono importanti, speriamo che possa essere apprezzato e sarà distribuito appunto durante la messa conclusiva della visita in Piazzale Kennedy. Nella visita, insomma, si toccano un po' tutti gli aspetti della città, dal lavoro, le povertà, le persone in stato di detenzione, i giovani. Sei cercato di dare uno spaccato generale. Qual è la Genova che incontra Papa Francesco? Ma io credo che ci sono tanti appuntamenti della visita davvero significativi. Forse dal mio punto di vista quelli che potranno essere così più intensi saranno quelli all'Ilva per il mondo del lavoro e poi un incontro che non è accessibile ma anche giustamente che è il pranzo appunto con i poveri senza dimora, i detenuti al Santuario della Guardia e anche quello con i giovani naturalmente, però penso che per lui nel suo cuore forse gli appuntamenti che forse lo segneranno di più e che faranno vedere un po' la Genova vera sono proprio questi due. Quanto è stato importante tenere informate le persone, le persone che seguono il cittadino in questa attesa anche per creare proprio questa attesa, questo abbraccio che il Cardinale chiede per Papa Francesco? La comunicazione è fondamentale, l'abbiamo visto e abbiamo cercato di rispondere proprio a questa esigenza e abbiamo visto che l'attesa e l'ansia è cresciuta proprio in queste ultime settimane e quindi arrivano continuamente telefonate di persone che vogliono sapere dai giornalisti che stiamo cercando appunto di seguire per gli accrediti ma anche dalle persone comuni, dai sacerdoti, dalle suore che ci chiedono informazioni su come poterci essere. La comunicazione, lo sappiamo, è fondamentale, a volte viene un po' trascurata e invece forse l'aspetto più importante perché un evento come questo davvero possa realizzarsi nel migliore dei modi. Qua come vi siete ripartiti i compiti? Perché a parte la stesura del settimanale poi c'è stata la parte relativa agli accrediti, ai giornalisti, poi la parte relativa agli aggiornamenti diocesani insomma c'è stato molto da fare. Sì c'è stato molto da fare, abbiamo cercato un po' di darci tutti una mano ma abbiamo anche cercato di dividerci un po' i compiti io personalmente sono andata alle riunioni del comitato che appunto erano settimanali ogni martedì sera alle 6 insieme a Don Silvio adesso con la mia collega Francesca ci stiamo occupando delle richieste di accrediti e quindi sono arrivati un bel po' di richieste è stato un lavoro che per noi era del tutto nuovo e quindi anche così molto impegnativo e quindi abbiamo più di 300 persone che hanno richiesto di essere accreditati per i vari eventi e ora ci troviamo a dover un po' gestire la divisione dei vari incontri quindi i giornalisti dove potranno andare, in particolare per il Santuario della Guardia perché sarà quello un pochino più complesso come trasporto per cui la stampa potrà salire soltanto con un pullman che sarà messo a disposizione e quindi chi andrà alla guardia fondamentalmente non potrà seguire nient'altro se non la messa, probabilmente al ritorno e quindi con lei abbiamo appunto fatto questo lavoro e poi il giornale, insomma anche qui ci siamo un po' divise le pagine, gli argomenti gli articoli da scegliere ma insomma poi ti potranno raccontare anche loro Grazie, grazie Laura, allora andiamo da Francesca Facciamo il nostro itinerario qua nella redazione Francesca Di Palma, ecco tu stai impaginando Stai impaginando nella pagina 11 che è inserita in questo numero speciale che stiamo componendo del Cittadino una pagina dedicata alla missione che stanno comportando avanti i giovani della diocesi quest'anno, la missione Gioia Piena e abbiamo un articolo a firma del Vescovo Ausiliare Monsignor Anselmi che è Vescovo Ausiliare ma è anche responsabile della pastorella giovanile quindi sta seguendo questo anno missionario Ecco, la visita del Papa si è inserita proprio in questo anno in cui i ragazzi stavano lavorando su questo tema è stato quasi un coronamento di quello che è il titolo, la Gioia Piena Sì, infatti è anche bello segnalare che all'inizio sembrava che i giovani che potevano partecipare all'incontro col Papa alla Guardia fossero un numero molto stretto, circa 500 e poi invece si è cercato di andare incontro alla grande richiesta e quindi 3.000 giovani saranno alla Guardia proprio a significare che questo anno ha portato anche questo frutto Ecco, la missione Gioia Piena va avanti dal settembre ci sono degli incontri settimanali su vari temi e insomma i ragazzi stanno rispondendo bene e la visita del Papa sicuramente suggerirà un po' questo cammino Sono giovani di Genova, ma diciamo così, di tutte le diocesi della Liguria? I giovani che saranno alla Guardia saranno giovani genovesi e giovani anche di altre diocesi mentre la missione Gioia Piena è una missione diocesana che si rivolge proprio anche a chi in diocesi non è poi così vicino al mondo giovanile diocesano cattolico e quindi ecco, la missione è in questo senso Voi come vi siete preparati a questa visita? Al di là di tutto il lavoro che avete svolto? Noi abbiamo seguito anche settimanalmente grazie alle riunioni e alla presenza di Laura un po' il percorso di avvicinamento alla visita del Papa e poi materialmente stiamo portando avanti più che altro il lavoro dell'ufficio comunicazioni sociali quindi il rapporto con la stampa qui al cittadino ci sarà la sala stampa e insomma più che altro il nostro aspetto è quello relativo alla comunicazione cercare di segnalare al meglio e in maniera più esaustiva possibile tutte le varie cose che ci saranno quel giorno Bene, allora buon proseguimento concludiamo il giro con Michela Michela, allora qual sarà il tuo ruolo il giorno della visita del Papa? E volete sapere un po' troppo? No, più che altro perché essendo noi più Alberto ci siamo divise nel campo di battaglia come si suol dire saremo ovviamente presenti insieme a Don Silvio nelle varie tappe della visita del Papa io personalmente sarò in sala stampa tutta la mattina e raggiungerò la postazione in Piazzale Kennedy per la Santa Messa e alla mattina appunto gestirò tutto quello che concerne la comunicazione immediata e non della visita del Papa quindi caricheremo il sito della Diocesi faremo una cronaca minuto per minuto come si suol dire e invieremo in collaborazione con la sala stampa della Santa Sede i discorsi del Santo Padre inerenti il mondo del lavoro all'Ilva l'incontro in cattedrale con i sacerdoti religiosi e infine l'omelia della Santa Messa Che cosa ti aspetti da questa giornata di Papa Francesco? Tu avevi seguito Benedetto nel 2008 oppure la prima volta che in qualche modo da giornalista hai modo di fare la cronaca della visita del Papa? Noi eravamo in campo alla visita del Santo Padre Benedetto XVI nel 2008 e come giornalisti, come fotografi non eravamo così addentro all'organizzazione non eravamo nel comitato come ci siamo quest'anno non eravamo appunto a gestire l'ufficio comunicazioni sociali della Diocesi quindi sì, eravamo in campo però con forze molto ridotte cosa mi aspetto? Mi aspetto una giornata di tanto lavoro perché inizieremo molto presto credo che alle 5-5 e mezza saremo in postazione però credo anche che l'aspetto soprattutto nostro quello della comunicazione sia anche un'occasione per sì raccontare agli altri quello che avverrà quel giorno ma è anche una fortuna poter seguire così da vicino un evento così straordinario per la nostra città e per noi In meno di un anno congresso eucaristico e poi la visita del Papa in qualche modo ascoltando anche i membri del comitato si diceva ormai siamo diventati una grande famiglia che ci vediamo abitualmente sicuramente ha creato anche unità hanno creato anche unità questi due eventi anche nelle relazioni con diversi anche settori non ci si occupa solo di giornalismo ma ci si occupa di sanità chi si occupa di volontariato chi si occupa di giovani insomma a 360 gradi certo come diceva recentemente l'arcivescovo forse siamo una delle poche diocesi se non l'unica ad aver organizzato in soli nove mesi due eventi così importanti il congresso eucaristico nazionale e adesso la visita del Santo Padre due eventi totalmente diversi qualcuno diceva ma il congresso eucaristico forse è stato più impegnativo perché era un'organizzazione per quattro giorni invece questo è uno non è vero non è vero la visita del Santo Padre sicuramente ci ha impegnato molto molto di più per mille aspetti ed è vero si è creata una bella unione una bella sintonia una bella armonia con tutti i limiti le difficoltà i difetti di tutti con tutte le persone che hanno collaborato a questo evento e penso che come sempre arriva di Val Cardinale possano da queste esperienze di tutti noi nascere dei buoni frutti per il proseguo del cammino della nostra diocesi ma anche per la comunione che si è creata inevitabilmente con le altre diocesi della Regione Ecclesiastica Ligure ci si conoscerà un pochino di più forse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Il cittadino, abbiamo ascoltato anche i numeri di questa visita di Papa Francesco a Genova, oltre 300 i giornalisti accreditati, circa 70.000 ma probabilmente molto di più i fedeli che parteciperanno alla Santa Messa conclusiva in piazzale Kennedy. Noi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle attività che si svolgono a Genova proprio in preparazione alla visita del Papa e l'appuntamento è per domani. Grazie a tutti.